Giuseppe, Salvo Squadra? In che squadra giochi? Fc la Chie Giocavi Giocavi Tumafritta In che ruolo giochi? No, giochiamo tutti, comunque... Laterale Laterale Io manovaro Operaio Cosa avete... allora... Cosa hai fatto tu nel torneo? Siamo usciti il felicesimo Tu cosa hai fatto nel torneo? Noi abbiamo vinto la... i quarti I quarti? E sei in tempo finale? Sì Un forte discussione Cosa pensavi di fare? Pensavamo... no, vabbè, quello che abbiamo fatto è stato abbastanza Siamo usciti prematuramente, però vabbè Tu cosa pensavi di fare? Ragazzi, l'abbiamo fatto assai, non vi preoccupate, alla prossima ciao Il migliore della tua squadra? Credo... la coppia Maugeri Vigari Come carisma il signor Pippo basta E tecnicamente... Valter Vitale Guarda, guarda, guarda Il migliore della squadra di tuo fratello? Niente difficile Mio fratello, mio fratello Ha preso da me, ha preso da me Della sua squadra, penso per questo Cosa ne pensi del torneo? Cosa ne pensi del torneo? No, vabbè, il signor Quattrocchi è sempre una persona seria Anche se quest'anno ci sono state delle piccole lacune, diciamo così Da rimediare il prossimo anno Allora, saluto il tuo amico Il mio amico, mio fratello Tampanello Saluto a tuo fratello Buona serata ragazzi Buona serata